ciao amici di youtuber come state spero bene per voi oggi oggi ormai è passato stasera sono in compagnia con voi sono stato contento che ci sono e ringrazio vari youtuber che si sono iscritti al mio canale mi ha colpito una frase molto particolare di un youtuber che non me la sarei mai aspettato una roba del genere anzi mi meraviglio anche per lui perché se ne fossero persone come lui da come sembra ma ha fatto una bella una bella impressione ma ha fatto un ragionamento per dire chi non si aiuta tra di noi c'è una roba del genere chi non si aiuta tra di noi boh non mi ricordo comunque intendeva meglio aiutarsi tra di noi che no beh questo più o questo è il concetto e mi è piaciuto tanto perché sembrava che era sincero come lo dicevano e mi meraviglio per lui anzi mi ha fatto molto piacere che mi ha detto questa questa frase qua perché non me l'aspettavo nemmeno adesso lo spengo perché sennò fumo troppo e quindi ringrazio tanto a questo youtuber che ve lo dico subito chi è mister natalini mister natalini ciao mister natalini grazie anzi aspetta mi ha scritto sinceramente ha risposto prego è un piacere mio aiutarci vicenda aiutarci a vicenda noi piccoli youtubers buona serata ciao lillo ecco questo è il messaggio che lui mi ha scritto è un bel messaggio è un buon messaggio perché mi ha colpito tanto questo tipo di messaggio e quindi dico io ce ne fossero persone come lui invece invece purtroppo non è sempre così di gente così in essi ne trovano in giro il 20 il il 2 per cento purtroppo sui 98 per cento quindi quindi purtroppo il mondo gira storto e il mondo gira storto e girerà sempre più storto con un tempo gira molto più storto purtroppo è così la vita bisogna prenderla come e quindi il discorso è questo qui spero che capiate questo tipo di messaggio da parte mia cosa intendo dire a tutti e buona visione al mio canale iscrivetevi che il numero di iscrizioni si stanno aumentando sempre di più ragazzi vi ringrazio anche di questo di seguaci visualizzazioni e like e ricordatevi ragazzi vi terrò sempre aggiornati giorno notte no perché di notte si dorme di giorno e di sera sono sempre qui per voi ciao alla prossima oba youtube sei sempre così